Momenti di terrore allo Iov di Padova. Intorno alle 11 di questa mattina una dottoressa dell'Istituto Oncologico Veneto è stata aggredita e accoltellata da un paziente in attesa di effettuare una terapia antalgica. Il medico rimasto ferito è stato subito soccorso dai colleghi per poi essere trasferito al pronto soccorso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è un uomo di 85 anni che ora è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di lesioni aggravate. Sul posto immediato l'intervento delle volanti della polizia della questura di Padova. Il presidente della regione del Veneto Luca Zaia subito informato dell'accaduto ha espresso la sua più ferma condanna per il gesto di enorme viltà e la sua personale vicinanza al professionista ferito. Si attendono accertamenti per capire il movente della violenta aggressione e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Grazie. Grazie.